Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Willy Morgan Allora siamo arrivati che dobbiamo entrare a Luna Park In questo tristissimo e mi pare abbandonatissimo Luna Park E mi pare bene Però la musichetta è carina Carrozzone Mi ricorda Sanitarium sta cosa? Vediamo se c'è qualcosina di interessante Un distributore di premi Eh ma io c'ho il martello di torre attenzione Cavacca adesso è fatto un mare cane Ah quindi non andava bene Senti ma se io ti li metto un po' No Ammazza che culo Queste sono le cose fatte così Proprio randomiche Sono quelle che funzionano Quindi ci ho guadagnato un pupazzetto che gli mancano occhio Ah un pirata al cuore tenero Uh un altro pezzo di mappa Ottimo Beh questo pezzo è stato facile A culo ma è stato facile Ottimo Ottimo Ok ci mancano altri due pezzi Sì uno sicuramente lo prenderemo nel posto quello là Nel ristorantino Oggetto luccicante Vedi non avrei mai visto Le mie braccia non sono abbastanza lunghe No però magari possiamo tiracce qualcosa Di nuovo il diavason I forbicette I ciottoli Ehm Le pinze Ah davvero? Ah non vedi Oggi le cose a culo però Uh Bene così possiamo far suonare Ottimo ottimo Un altro strumento Così possiamo aprire nel negozio fricchettone Però finiamo un attimo il giro Da ci siamo Ah stiamo andando al faro Nido Ok quindi dobbiamo fregare la roba che c'è nel nido E questo si deve levare E direi continuiamo a minchia Tanto oggi funziona No Ti timbro la cavoccia Qui non puoi entrare Martellate sul gabbiano Ti do fuoco Ti taglio Acciottolate Vabbè non è così Però ti spavento con la Polaroid No col flash Pensavo Non ce lo vedevo Che lo spaventava col flash Cartello Va bene Allora Non si illumina altro Il ponte Decisamente sicuro Vai Andiamo al faro Non so come farlo funzionare Beh non eri un genio Però di giorno si vede Allora Quattro comande Istruzioni Targhetta Vediamo La luce vi guiderà Accendere e orientare Ah ecco Mi rimangio quello che ho detto Nei episodi precedenti Quindi col sinistro E prendi usa Col destra E osserva Quindi Sì Ok Commenta le cose Ok Scusate Sviluppatori Ho detto una cattiveria C'è una mappa Con delle coordinate Non ci sono altre indicazioni Proviamo Illuminiamo a caso Non lo so Beh no Non posso far A cavolo Ma tanto Oggi c'ho culo E becco così Ho capito Ok Mi ci vogliono delle coordinate Però nella lettera Non credo c'erano E nella lettera Della biblioteca Il tesoro La mappa Ah beh no Giustamente Mi ci vuole la mappa Ok Quindi quando avrò la mappa In teoria avrò le coordinate Bene Direi che Possiamo andarcene da qui Allora Il negozio Degli strumenti musicali Ok Quindi possiamo mettere Questo rullino Rullo Qui Nel pianoforte Lo stesso che ci sta All'Amplified City Si è aperto ancora un po' Non ti basta? Un pezzo di carta No Dobbiamo fare qualcosa Col violoncello Dobbiamo sistemare La cordicella Se non sbaglio Dunque Allora Possiamo andare Alla farmacia Perché ho raccolto L'erbetta Che serviva a questo Ancora ne è tornato? Beh se è un maledetto Allora Ok Quindi che altro Possiamo fare? Il timbro I ciottoli Allora Proviamo all'armeria Usare i ciottoli Armeria No Questo è il fabbro Scusate No Il fabbro No Mi serviva All'armeria Perché Dobbiamo riuscire In qualche modo A Fare una copia Di questa pistola Dunque Userei I ciottoli Qua Sulla catapulta Ok Quindi questo Se ne va a cagare Facciamo una foto Alla pistola Come mi è stato suggerito Da Simone Grazie Ok Adesso ho le foto Il problema È che non credo Come dicevo sempre A Simone Che basterà Per il pub Per la stampante 3D Perché lui parlava Di una chiavetta USB Un CD Quindi non credo Basteranno le foto Ma noi ci proviamo E invece sì Grande Simone Grazie Sì vabbè Molto rapida Come stampante 3D Perfetto Ok Abbiamo una replica Fatta veramente Da Dio Dunque Torniamo All'armeria Sì Rifacciamo Con la catapulta Così Quello si leva Dalle ballette E facciamo Il pezzo Indiana Jones Ah Già sta fuori E vabbè Se ti fidi così tanto Signore Io mi fiderei Vai Pezzo indiana Jones Ehi a madonna Quando il gioco Si fa duro Ok Vediamo se c'è qualcosa Qui dentro Un pezzo Un pezzo di mappa Perfetto Tapo di rivende Va bene Va bene Allora Questo è fatto Quello è fatto Quello è fatto E mi manca L'archetto Del Violoncello E mi manca Dare al farmacista Questo Allora io andrei Un attimo Dal sindaco Perché c'ho il timbro Forse devo fare Forse devo fare una finta lettera Non lo so Vediamo un attimo Sì Cosa Oh No Ogandano Municipio Ci stiamo Farmacia Quello non torna Luna park Abbiamo fatto Fabro Armeria Mi pare Abbiamo fatto Strumenti musicali Mi serve La corda Il cimitero La chiesa E il faro La chiesa Ci vuole una chiave Speciale Qualcosa che possa forzare Questa serratura È la limetta Forza la serratura Aiuto Allora Qual museo Che dovevamo fare La busta Peglierei di Tom Raleigh Ma io questi adesivi Posso mettere Tipo qua C'è storia Ah Ok Quindi se io ti do Questi Ah ok Il timbro Ok C'ho il timbro Ottimo Ok Guarda Sono parente Sì la sua è l'ultima visita si è trasferita ad ovest diventando molto famoso solite cose d'artista vita spericolata nessuna sicurezza economica all'improvviso è diventato mio avvo si è trasferita ad ovest diventando molto famoso vattene pure te ad ovest ovvio ovvio grazie ottimo abbiamo fatto anche questo cosa ci ha lasciato Tom un pezzo della mappa quindi non so quattro pezzi di mappa o forse sono quattro è questo che voce c'è una modificata per natura allora abbiamo tutta la mappa nove sboom allora c'è qualcosa di alcolico io con qualcosa di alcolico ci faccio qualcosa ti potresti ubriacare per dimenticare no proviamo qua sul tavolo no eeeh boh questo no ho capito come fa quattro pezzi su nove ricapitoliamo quindi ci manca il ristorante e boh ci vuole una caffeina qualcosa eeeh la farmacia speriamo a sto punto è tornata dai dimmi di sì ti prego è che palla non è possibile eeeh poi abbiamo mmm gli strumenti musicali gli strumenti musicali però ce ne abbiamo quattro no? cinque sei sette boh che altro ci abbiamo? perché noi qui abbiamo abbiamo fatto John Roger Gome Graleg Rock Lafitte e quella del padre Edward Drake Charles Teach Chris Everg Walter Fly è di Bellamy mmm e dunque adesso che dobbiamo fare? perché come oggettistica non è che abbiamo grandi cose a meno che questo sia visto come carburante non lo so motore dai ottimo spara ballina mi ci vuole più potenza no 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 come faccio a farlo diventare più potente carica e spara palle da baseball ma non c'è un modo per girarlo però come posso fare a farlo diventare più potente lo sparo mi ci vuole una cosa che lo renda più potente il contenuto la fioschetta ha funzionato però dobbiamo fare in modo che riesca a sparare di più entriamo un attimo vediamo se il prete dice qualcosa a muovere sto sparando allora padre mi sembrava di averla sentita gridare la macchina del diavolo addirittura ma ancora non comprendo outside the church is a machine a wicked machine the kids of bone town used it to play all that clamoring and laughter disturbed by concentration it's not easy to write a two hour sermon but it's necessary to maintain a straight laced community I instructed never to use it anymore and it's been years since it fell quiet but today someone has transgressed it'll be necessary to rely on the holy scripture again are you planning to write a sermon about the scriptures oh no son this situation has to be resolved oh dobbiamo ripristinare l'ordine delle cose I have a task for you you'll have to restore the order of things I don't think I'm the right person for it you're here in my presence so you're the right person for the job ma puoi farlo dire I didn't want it to come to this but the things are escalating take this secret relic it will be your mission to fix it and place it outside the church everything is already set up un sacro fuori ospiterà il verbo e il mondo sta che è scritto è il verbo che impedirà lo scempio appena iniziato di procedere oltre vietato a giocare è bello certo manco quello che fa però vabbè se vediamo dunque dobbiamo aggiustare sto cartello mio caro piccolo fabbro ma come no vabbè ce par allora ho bisogno di aiuto sono in missione per conto di Dio i blues brothers grandi per conto del reverendo ah mo si però dunque una chiave inglese oddio cos'è il gancio quello là per prendere i pupazziti avvitare imbollonare e aprire alcune serrature speciali dai dimmi che mi apri biblioteca la scatola sopra quindi è un pass partout cassa aperta vuota oh un doppio fondo per poterlo forzare oh c'è questo perdiavason le forbici ammartellate niente la dimetta dai la dimetta oh un altro pezzo di mappa e dai e stiamo a 5 bene quindi quella di teach manca drake everg fly e bellami ma questo lo do aggiustà ah comunque si e allora siccome il tipo del pub sta giocando se gli metto che è vietato giocare così no vabbè era tanto per rompere le palle vabbè no allora torniamo un attimo qua e c'è un posto obiettivamente dove metterlo buco ok ora ci faccio rimbalzare la pallina che poi distrugge una vetrata ok vai spara palline e dai mos madonna beh però non ti ha detto anche ficca lo spara palline morto il preda ah no sti cazzi cos'è successo maledetti maledetti capelli rossi no dai un tipo castano magrolino lentigini ma pure edward addio come cammina bellissimo dunque mi spiace per la vetrata onestamente ah si pensa un po' non avrei mai pensato quindi siamo a 6 giusto azzò bene anche questo è fatta mu è tornato il farmacista ma che devo fare ma hai detto eh vabbè allora ne ho 6 giusto ne mancano 3 manca Avery Fly e Bellamy ok quindi manca il One Eye Jack e questo vabbè è assodato la farmacia la farmacia e gli strumenti musicali e come faccio adesso perché nel biscotto della fortuna invece di esserci il messaggino c'è un pezzo da mappa non so proprio come fare qua che cavolo devi mangiarti per rimanere sveglio e se mi faccio che così sembra che ho gli occhi aperti no bellissimo ah bellissimo tieni metteteli eh qua te li metti vabbè spero che mo te li metti allora quando sei pronto ok mettiti questi occhi finti dai carino invece di essere solo il tuo caffè eccetera venga venga mi racconti tutto il pollame qua non mi addormento io questa grossa testa così davanti a lui però in trance sì io sono il prescelto baby ma che credi ottimo ottimo quindi finalmente il biscotto della fortuna è mio vai apri ebbè stavolta sì però ma dai perché complicare le cose è un mondo aumento questo non lo so ehm dunque dai riapri riapri ho capito allora dunque fabbro il biscotto sull'incudine c'è un martello c'è un martello ed è un martello siamo a 7 quindi sogno in realtà perfetto quindi stiamo a 7 ok ops e mancano avveri e fly che quindi sono la farmacia e gli strumenti musicali niente ma fanno fappe ultime la farmacia la odio la odio niente vabbè va bene ragazzi dai però oggi ci fermiamo qui abbiamo raccolto un bel po' di pezzi di mappa aspetta e abbiamo raccolto un bel po' di pezzi di mappa e ci mancano gli ultimi due adesso dovrò capire un attimo come far tornare sto farmacista del cavolo e la corda della viola del violoncello di quello che è per aprire il passaggio quindi come sempre mettete un mi piace lasciate un commento iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo episodio alla prossima grazie a tutti